Salmo 40, versetto di numero 1, dice così Ho pazientemente aspettato il Signore, ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. In questo tempo, in questo periodo, come tu hai aspettato il Signore e come il Signore ha ascoltato il tuo grido, la tua preghiera? Lo puoi dire, anche se vai, carissima sorella, come il Signore ti ha ascoltato? Una frase, una cosa che il Signore ti ha ascoltato. Magari anche gli altri possono pensare, guarda, il Signore mi ha ascoltato che cosa? In che maniera? O come ti ha fortificato? Che abbiamo la gioia del Signore, il Signore che scolta. Adorgerò Con tutto il mio cuore Adorgerò Facciamo un applauso al nostro Signore, che ci ascolta, ascolta la nostra preghiera. Sempre dal Salmo 40, ho pazientemente aspettato il Signore, ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizioni, dal pantano fangoso, e ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, e ha reso sicuri i miei passi. Amen! Cantiamo ancora! Gloria al nostro Signore Alleluia al Signore Amen! Signore, noi ti ringraziamo questa mattina, perché noi possiamo pregare al Tuo nome, Signore, che ora, quando tanti di noi pregheremo, che Tu possa ascoltare il nostro grido, Signore, che Tu possa rispondere. In maniera potente, Signore, nel nome di Gesù. Amen! Cari, possiamo accomodarci? E dopo che vi siete accomodati, vogliamo pregare tanto al Signore. Io direi che magari si può incominciare anche qui da Alberto. Ognuno di voi, non è che dobbiamo adesso predicare, non sia molto tempo, però ognuno di noi può pregare al Signore. Loda Dio, apri il tuo cuore, perché la preghiera scalda e aumenta la nostra fede, scalda il cuore. E noi riusciamo, nel parlare con Dio, il Signore ascolta la nostra voce. Quindi, se Alberto, se Tu vuoi incominciare, poi ognuno di voi prega al Signore, anche se è un grazie. Signore, grazie che sono qui, di Gesù, Amen! Hai pregato. Quindi non è una questione di discorso, è una questione di intimità. Amen! Prega al Signore, preghiamo nel nome di Gesù. La parola del nostro Signore dice, sempre dal Salmo 40, versetto 5, Oh Signore, Dio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Nessuno è simile a Te. Vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Signore, grazie perché la Tua meraviglia si sta manifestando nella nostra vita. Grazie, Signore, perché in mezzo a una pandemia, in mezzo a tante difficoltà, Tu, Signore, prendi cura della nostra vita. E continuiamo, Signore, a ringraziarti, Signore, perché Tu sei il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Tu sei il nostro Dio. E questa mattina, Signore, vogliamo proclamare, gridare su in alto tutti i Tuoi prodigi, riconoscendo, Signore, quello che hai fatto, quello che fai, quello che farai nella nostra vita. Signore, Ti vogliamo ringraziare, lodare con tutto il nostro cuore. Ti voglio lodare per ogni famiglia qui rappresentata, per la gioia che noi abbiamo di celebrare il nome di Gesù per questa sala. Signore, perché noi abbiamo avuto un permesso, Signore, possiamo, Signore, secondo i protocolli, ma comunque, Signore, celebrare il Tuo nome. Signore, grazie perché per mesi interi noi ci siamo visti soltanto via internet, ma ora noi abbiamo la possibilità di vederci anche fisicamente parlando. E, Signore, quindi le benedizioni sono grandi. Grazie, Signore, per questa brezza, grazie, Signore, per la potenza dello Spirito Santo, grazie per questo sole, grazie per il dono della vita, grazie, Signore, per il Tuo amore nel nostro cuore, nel nostro intimo, che ci rinforza giorno per giorno e Ti glorifico, Signore, per l'opera che stai facendo nelle nostre vite, nel nome di Gesù. E il popolo di Dio dice? Gloria al nostro Signore Cristo Gesù. Allora, cari, noi stiamo qui anche per ascoltare la parola del Signore. E io, legando al tema che noi stiamo parlando di pregare, di gridare al Signore, abbiamo anche cantato prima, no? A chi griderò? Allora, ti dico questo, se la prova vuoi superare, prega al Signore che ti può aiutare. Amen! Quindi, se tu vuoi superare una prova, l'arma che il credente ha è la preghiera. E noi stiamo sperimentando questo, vogliamo intensificare sempre di più la preghiera. E c'è un brano molto, molto, molto bello, nell'Antico Testamento, che parla di un uomo in difficoltà, un uomo che non si poteva spostare, perché adesso vedremo qual era la sua situazione, e lui, il Signore che cosa fa? Ha detto, prega a me. Tu sei un problema, prega a me! E nella difficoltà, nella nostra disperazione, è come per dire, se un figlio ha un problema, cosa fa? Chiama la mamma, chiama il padre. Ossia, sì, è una reazione che è normale. Un bambino neonato piange, la mamma ha già capito che quello sta dicendo, io ho fame, ho bisogno di mangiare. Allora, apri con me la parola di Dio, nel libro del profeta Geremia. Tempo di difficoltà, tempo conturbato, tempo in cui il popolo, Giuda, era lontano dal Signore, e il Signore stava per intervenire, per tirare l'orecchio in una maniera molto forte, il popolo sarebbe andato in deportazione, ossia sarebbero andati in Babilonia, e quindi vediamo quello che dice la parola di Dio, e come si trovava il profeta del Signore. Geremia 33. Noi leggeremo dal versetto di numero 1, leggeremo almeno fino al versetto di numero 5, e dopo noi focheremo in un versetto soprattutto che ci dà un insegnamento per la nostra vita. Amén? Cari, allegria nel Signore! Amén! Alleluia! Allora, Geremia, capitolo 33, dal versetto di numero 1. Avete trovato? Quindi è nell'Antico Testamento, aprite la parola di Dio, non sto usando lo schermo, piano piano riprenderemo tutte le cose, ma per ora, ossia, torniamo magari all'elemento basilari, non sa che abbiamo la Bibbia, proprio materialmente parlando, o anche se tu vuoi accedere dal tuo cellulare, quindi Geremia 33, versetto 1. E voglio anche cogliere l'occasione per salutare tutti i nostri fratelli che ci guardano da casa. Noi con tanto amore, con tanta premura, vi salutiamo e registriamo questo culto, questo tempo di adorazione, perché possa arrivare nel tuo cuore e il Signore possa benedire, non soltanto noi che siamo qui riuniti, ma anche te. E mi raccomando, a molto breve saremo tutti insieme per la gloria del Signore. Amén? Allora, Geremia 33, versetto 1, avete trovato, vero? Dice così la parola del Signore. La parola del Signore fu rivolta per la seconda volta a chi? Qua c'è il nome del profeta, Geremia, in questi termini. Mentre egli era ancora, guardate bene questa parola, rinchiuso, lui non era in libertà, ma era rinchiuso nel cortile della prigione. Così parla il Signore che sta per fare questo, il Signore che lo concepisce per mandarlo ad effetto, colui che ha il nome il Signore. Invocami. Mamma mia, guardate bene cari fratelli. Invocami e io ti risponderò. Ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Infatti, così parla il Signore, Dio di Israele, riguardo alle case di questa città, e riguardo alle case del re di Giuda che saranno diroccate per far fronte ai terrapieni e alla spada del nemico e quando si verrà a combattere contro i caldei e a riempire quelle case di cadaveri di uomini che io colpirò nella mia ira e nel mio furore e per le cui malvagità io nasconderò la mia faccia a questa città. Ci sarebbe da leggere tutto il capitolo ma adesso per una questione di tempo io mi fermo qua. In poche parole noi troviamo un profeta, uomo di Dio, in prigione. Adesso capiremo perché lui era in prigione. Aveva rubato? Aveva defamato il re? Che cosa aveva fatto questo uomo? Noi vediamo quindi che c'è un re. Vediamo adesso tra poco chi è questo re. Stiamo parlando del re del sud che è Giuda. Stiamo parlando di un popolo che nonostante avesse l'istruzione di Dio che è la parola del Signore si erano allontanati molto da Dio. Per benessere, per idolatria, per incredulità, in poche parole per la prostituzione spirituale anziché adorare Dio unico, l'unico Signore, come noi troviamo nel libro di Deuteronomio, capitolo 6, loro vanno a cercare altri dei. Quindi una corruzione spirituale. E quando c'è corruzione spirituale Dio dà un po' di tempo al suo popolo per ravedersi. E sono passati diversi anni, il regno già si è rispaccato da molto tempo, c'è il regno del nord, il regno del sud. Perché? Perché il popolo si è allontanato da Dio. E quando le persone si allontanano da Dio, le conseguenze non sono buone. Fino al giorno che quel peccato era salito così tanto davanti alla faccia del nostro Signore, che Dio ha detto basta! Io mando un altro popolo, un popolo straniero, i babilonesi, per portare giustizia, per portare una disciplina, questa è la parola giusta, nel mio stesso popolo. Perché Dio corregge a chi ama. E quindi non vogliamo, Dio è amore, Dio è pace, ma noi sappiamo che il giorno del Signore è arrivato per questo popolo. E perché Dio voleva salvare questa rimanenza che Dio già aveva predeterminato, perché da Abramo sarebbe uscito colui che avrebbe benedetto tutte le famiglie della terra, che è il Messia, Gesù Cristo. E allora il popolo avrebbe, sarebbe stato strappato dalla sua terra, portato in Babilonia, è rimasto lì per 70 anni. Quindi Geremia sta vivendo in questo tempo. Geremia vive in un tempo in cui la gente faceva tutto tranne che ascoltare la voce di Dio. E non è diverso dai tempi in cui noi stiamo vivendo. Le persone ascoltano tutti tranne che la voce del Signore, perché mettono in dubbio la parola del Signore. E come noi vedremo adesso non era diverso anche nel tempo del profeta Geremia. Ossia Dio in poche parole sta dicendo se io ho fatto una promessa anche a Davide, io ho fatto una promessa a Abramo che tutte le famiglie della terra sarebbero benedette, ma Dio ha fatto una promessa anche a Davide dicendo che il regno di Davide non avrebbe avuto mai fine. Quindi Gesù Cristo è il re, il figlio di Davide che deve avere un regno non per un determinato tempo ma per sempre e il Signore già regna nella nostra vita quindi ora noi già godiamo benefici dell'opera del Signore nella nostra vita ma la manifestazione del regno del Signore si completerà quando il Messia tornerà e non ci sarà più morte e non ci sarà più dolore e non ci saranno più le lacrime e non ci sarà più la separazione perché il Signore instaurerà il suo regno e tu vivrai per sempre con il Signore perché non ci sarà neanche più il peccato però nel frattempo il Signore allora sta lavorando sta lapidando sta forgiando il suo popolo lo sta disciplinando perché si era allontanato da Dio allora Dio che mantiene le sue promesse perché lui non si mangia le parole ma fa quello che dice lui sta promettendo qua un futuro per il suo popolo lui sta dicendo che curerà trasformerà la terra se tu leggi tutto il capitolo 33 troverai questo e poi nell'ultima parte di questo capitolo noi possiamo trovare che il Signore sta per adempire all'alleanza davitica quindi partendo dal versetto 1 fino al versetto 26 tu puoi vedere queste almeno queste tre cose allora Geremia torniamo al nostro protagonista il protagonista in effetti è Dio ma il secondo il secondo attore il protagonista il regista è sempre il Signore ma colui che Dio si serve in questo momento per parlare che è Geremia lui era stato imprigionato da chi? da Sedechia che era re di Giuda e questo uomo ossia Geremia era stato imprigionato sapete perché? perché lui stava predicando la parola del Signore e semplicemente perché lui diceva guarda che qua le cose non sono messe bene il popolo si è allontanato da Dio il popolo è impeccato e il popolo si deve ravedere al re non è piaciuto questa parola al re non è piaciuto questa parola e quindi lo ha mandato in prigione potete immaginare questa questa situazione infatti se tu vai con me in Geremia capitolo 37 Geremia capitolo 37 e noi vediamo nel versetto di numero 1 dice così il re Sedechia figlio di Giosia regnò al posto di Conia figlio di Ioachin e fu costituito re nel paese di Giuda da Nabucodonosor re di Babilonia quindi già qui sotto l'influenza della Babilonia ma poi nel versetto di numero 11 dice quando l'esercito dei caldei si fu ritirato davanti a Gerusalemme a causa dell'esercito del faraone quindi Giuda aveva fatto un'alleanza con l'Egitto anziché fare un'alleanza con Dio Geremia uscì da Gerusalemme per andare nel paese di Beniamino e ricevevi la sua porzione in mezzo al popolo ok ma quando fu alla porta di Beniamino c'era là un capitano della guardia di nome Ireia figlio di Selemia figlio di Anania il quale arrestò il profeta Geremia dicendo tu vai ad arrenderti ai caldei lui stava dicendo tu stai dicendo che noi ci dobbiamo consegnare ai nemici non era quello che Geremia stava dicendo noi ci dobbiamo arrendere al Signore noi siamo impeccati noi dobbiamo tornare a Dio e il popolo questo messaggio non aveva compreso allora Geremia dice versetto 14 capitolo 37 molto importante capire il contesto Geremia rispose è falso io non vado ad arrendermi ai caldei ma l'altro non gli chiede non gli diede ascolto arrestò Geremia e lo condusse dai capi i capi si addirarono contro Geremia e lo percorsero e lo misero in prigione nella casa di Jonathan il segretario perché di quella avevano fatto un carcere e Geremia quando fu entrato nella prigione sotterranea quindi guarda che situazione del profeta di Dio fra le segrete e fu rimasto molti giorni il re Sedequia lo mandò a prendere lo interrogò in causa sua di nascosto e gli disse c'è qualche parola da parte del Signore quindi il re voleva sapere ma Dio ha parlato a te mi ha mandato un messaggio lì non c'è Whatsapp non c'è internet ma c'è la parola c'è il profeta di Dio che Dio usa guarda bene la domanda domanda giusta del re ma vediamo la sua reazione al messaggio che riceve Geremia rispose sì c'è quindi c'è posta per te re e aggiunse tu sarai dato in mano del re di Babilonia mamma mia Geremia disse inoltre al re Sedequia che male ho commesso contro di te o contro i tuoi servitori o contro questo popolo perché mi abbiate messo in prigione dove sono ora i vostri profeti che vi profetizzavano dicendo il re di Babilonia non verrà contro di voi né contro questo paese quindi c'erano profeti che predicavano quello che la gente voleva ascoltare e oggi c'è tanta gente che predica un messaggio in giro tu non hai problemi tu hai ricchezza tu prega e tu sei guarito io ti rilascio guarigione io voglio vedere dove sono questi profeti adesso perché non sono andati all'ospedale infermi a guarire tutte le persone dove sono questi falsi profeti dove sono quelli che promettono il nome loro e parlano da bocca sua dicono che parlano da parte di Dio ma sono falsi profeti questa cosa non è nuova e succedeva esattamente allora io mi metto umilmente nei panni di Geremia e dico dove sono quelli che hanno detto che il nemico non sarebbe arrivato cari è molto seria questa questione allora ti sta dicendo la parola del Signore ancora Geremia continua nel versetto 19 dove sono ora i vostri profeti dicendo che Babilonia non verrà ora ascolta versetto 20 ti prego oh re Signore quindi lui con rispetto la mia supplica giunga ben accolto in tua presenza non mi far tornare nella casa di Jonathan lo scriva in modo che io vi muoia allora il re Sedechi ordinò a Geremia che fosse custodito nel cortile della prigione e gli fu dato tutti i giorni un pane dalla via dei fornaci finché tutto il pane della città fosse consumato così Geremia rimase nel cortile della prigione quindi lui è stato trasferito da questa prigione a una prigione più vicino al re ma sempre in prigione era è molto importante che io e te possiamo discernere in questi giorni chi veramente parla nel nome del Signore perché è bello il messaggio quando tu ascolti non avrai problemi non avrai difficoltà chi è che non vuole io voglio umanamente parlando ma non è reale non è reale uomini di Dio donne di Dio nella scrittura hanno subito difficoltà e oggi noi capiremo perché è importante comprendere questo ma tornando al capitolo 33 adesso con questo storico non questa situazione nella nostra mente la parola del Signore fu data per la seconda volta a Geremia in questi termini che era ancora rinchiuso nella prigione però la cosa meravigliosa cari è che il Signore sta dicendo questo guarda versetto 2 incomincia lo spiraglio della speranza nella nostra vita e nella vita del profeta perché nella prigionia nella solitudine nell'essere rinchiuso e io voglio che tu ti possa medesimare perché tu sei stato rinchiuso o magari hai lavorato sotto situazioni molto difficili chi ha relazione con il pubblico o chi è infermiera o la rubia che lavora anche con tanta gente ossia tutti noi in una situazione o l'altra in situazioni molto difficili chi aveva bisogno di lavorare e non poteva lavorare rinchiuso guardate bene che il Signore incomincia a rispondere a te non falso profeta e neanche Fabiano io sono un granello di sabbia neanche polvere ma dice il Signore versetto 2 di capitolo 33 così parla il Signore che sta per fare questo ossia qua il senso è Dio che parla il verbo il verbo è un verbo ebraico è facile per ricordare della parola è amar la parola amar che non c'entra con amore in questo caso in italiano amar vuol dire che Dio parla e quando Dio parla le cose accadono basta aprire Genesi capitolo 1 Dio ha parlato ci sia luce luce fu quando Dio parla Dio incomincia a mettere in ordine le cose e la parola del Signore sta dicendo che Lui sta per fare questo quando Dio parla le cose si realizzano e chi è che parla? non so se avete notato nel versetto 2 che dice così parla il Signore che sta per fare questo il Signore che lo concepisce per mandarlo a defetto colui che ha il nome come si chiama? Signore ossia Dio sta parlando e dice ma chi è che sta parlando? il Signore e qua vedete che nella vostra Bibbia è in maiuscoletto ossia sono i caratteri maiuscoli perché sta parlando del nome del nostro Signore chi è questa persona? è il vero Dio e nessuno sa la pronuncia del nome di Dio noi lo chiamiamo Signore perché sarebbe l'equivalente Adonai in ebraico infatti nessuno poteva pronunciare il nome di Dio noi possiamo dire il nome delle lettere Yod Hei Vavi Hei ma se ti dicono che è Geova non è Geova perché questa parola era stata creata esattamente per non pronunciare il nome di Dio quindi non è il nome del Signore è molto importante che noi stiamo qui davanti al Signore l'Eterno che sta in particolar modo parlando al suo popolo dicendo che io sto qui per parlare e sapete una cosa molto interessante solo nel capitolo 33 io ho contato 15 volte che il nome Signore appare il protagonista dell'universo il protagonista nella vita del profeta Geremia il protagonista nella tua vita è il Signore cari noi ci possiamo rivolgere a Lui non pensare che la nostra vita è soltanto in questa sfera noi dobbiamo guardare oltre e c'è gente che entra in depressione c'è gente che sta male perché pensa che la vita del credente è solo in questa sfera ma capisci una cosa io devo morire tu morirai non è facile non è facile è triste è molto triste ma è a causa del nostro peccato ma c'è la buona notizia quando tu fai di Dio la tua gioia e la tua pace tu superi questa difficoltà perché sai che questa la morte non è la fine ma è soltanto l'inizio di una vita eterna con il Signore è perché il Signore stesso ha promesso nella nostra vita che noi vivremo per sempre perché Gesù Cristo è la verità è la risurrezione è la vita che torna che ci dà una vita nuova non nel senso tu non sarai un fantasma ma tu avrai un corpo glorificato e vivrai con il Signore qua noi stiamo ancora nel tunnel ma noi già vediamo la luce del Signore alla fine perché Gesù Cristo sta tornando allora il Signore che sta parlando e Dio che cosa fa e io ti voglio ricordare il tema questa mattina se la prova vuoi superare prega il Signore che ti può aiutare adesso incomincio il messaggio questa è solo l'introduzione no è scherzo cari versetto 3 è la chiave per noi è il dono di Dio per noi il dono il regalo di Dio per la nostra vita che cosa dice la parola 33 anche facile da ricordare da memorizzare vogliamo dire tutti insieme invocami e io ti risponderò ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci allora se tu vuoi superare la prova prega il Signore che ti può aiutare Dio sta dicendo in questo versetto almeno ci sta dando due insegnamenti molto chiari il primo è che io sono istruito a il comando è un comando invocami è un imperativo maschile grammaticalmente parlando è imperativo maschile che sta parlando nella seconda persona invocami tu invocami ognuno di noi a livello personale io devo invocare quindi è il primo insegnamento il secondo insegnamento è che io devo avere fiducia nel Signore ma parliamo prima del primo mandamento di primo insegnamento che è il comando di pregare al Signore questa parola in ebraico che karah vuol dire chiamare su ossia richiedere aiuto quando magari una persona è al mare dice aiuto aiuto un S.O.S save our souls ossia aiuto ho bisogno di aiuto quindi è questo il senso della parola Signore io volgo a te per te sei a casa prega il Signore e il Signore sta dicendo invocami parla con me io ti voglio scoprire perché forse tu sei così perduto non sai cosa fare la prima cosa da fare è invocare il nome del Signore è la prima cosa che dobbiamo fare è un imperativo è un ordine e se tu vuoi essere benedetto al Signore questa mattina sapete che cosa dovete fare e che io devo fare invocare il nome del Signore allora Geremia che era in prigione che era scoraggiato perché non è facile rimanere rinchiuso e noi siamo rimasti in casa molti di noi tranne quelli che dovevano per forza uscire a lavorare che avevano un permesso per andare a lavorare ma tu hai mangiato la pizza hai mangiato la torta ti sei ingrassato Geremia aveva una razione era quello punto e basta era rinchiuso era nel sotterraneo era in una situazione difficile allora lui stava lì ma con l'aspettativa che il Signore l'avrebbe aiutato ma era difficile e il Signore nella sua angoscia ha detto invocami parla con me in capitolo 29 di Geremia versetto 12 dice così leggo io per voi voi mi invocherete dice il Signore permesso del profeta voi mi invocherete e verrete a pregarmi e io vi esaudirò alleluia Signore in Luca capitolo 18 versetto 1 Gesù Cristo parlando alla gente dice propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi quindi quello che Dio insegna al suo popolo nell'Antico Testamento è la stessa cosa che insegna nel Nuovo Testamento io devo chiamare devo invocare l'Apostolo Paolo in 1 Tessalonicese 5.17 che cosa dice non cessate mai di pregare quanta più preghiera più forza tu hai per uscire da questa situazione che tu vivi adesso noi non abbiamo i babilonesi che stanno per invadere l'Italia grazie a Dio però noi viviamo in altre situazioni ma il principio di invocare il nome del Signore è inalterabile io non sono Geremia tu non sei Sedechia no non siamo in Giuda non siamo lì a Gerusalemme ma abbiamo lo stesso Dio di Abramo Isacco e Giacobbe e abbiamo questo insegnamento allora nel capitolo 32 di Geremia Geremia dice così nel versetto 17 Geremia 32 17 ah Signore Dio ecco tu hai fatto il cielo e la terra con gran potenza e con il tuo braccio steso non c'è nulla di troppo difficile per te caro fratello e sorella prendi questo come una promessa per la tua vita tu usi di benevolenza verso mille generazioni e tu dai la retribuzione per l'iniquità dei padri ai figli dopo di loro tu sei Dio grande e potente cui nome è Signore degli eserciti allora questo Signore che può fare ogni cosa nella nostra vita sta dicendo che io sono chiamato a invocare il nome del Signore io voglio sapere questa mattina quanti di voi comincerete a invocare con più intensità il nome del Signore da questa mattina amén perché se non invochi starai sempre male questo è il comando è un comando e adesso noi vediamo la promessa ma il comando è invocare il nome di Dio sei scoraggiato prega il Signore sei malato prega il Signore sei triste prega il Signore sei in una prigionia sei in una prigione o sei in una prigionia prega il Signore non importa l'imperativo è pregare invocare il nome di Dio alzare la tua voce c'è problema a casa con i figli matrimonio lavoro tante situazioni noi stiamo invocando il Signore tutti i giorni e continueremo a farlo nel nome di Gesù a benedire il Signore a confidare perché quando io invoco Dio sto dicendo io confido in Te Signore quando io non prego a Dio sto dicendo ci penso io Signore e questo quando noi preghiamo invochiamo io mi arrendo nelle mani del Signore Signore io sono debole ho bisogno di Te invochiamo il tuo nome nel nome di Gesù ma il secondo insegnamento per andare questa mattina insieme è la fiducia nel pregare io devo pregare devo invocare ma con quale ah Signore io ti chiedo aiutami qual è il mio atteggiamento qual è lo stato del mio cuore il Signore che cosa fa che cosa promette a noi sempre versetto 3 di Geremia 33 il messaggio è qui invocami è il comando e la la risposta la fiducia nel pregare che cos'è perché fiducia nel pregare perché Dio dice io ti risponderò se Dio sta promettendo è come una persona dice guarda io non ti preoccupare che questa settimana ti vengo a trovare e tu aspetti quella persona e quella persona non viene oppure non ti preoccupare che ti vengo incontro ti vengo ad aiutare e quella persona non si fa presente Dio sta dicendo invocami perché io risponderò io sono il Signore il mio nome è l'Eterno lui si è presentato prima e sta dicendo che risponde la nostra preghiera e dice qual è il tipo di risposta che Dio dà a noi sempre versetto 33 io ti risponderò e ti annunzierò cose piccole che nessuno dà importanza no cari la parola di Dio dice ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci ti voglio dire una cosa se tu preghi a Dio con fede stai tranquillo che Dio farà cose grandi che tu non te le aspetti però quando dice Dio che fa cose grandi non vuol dire che rispondi a quello che vuoi te quindi stai pronto cose grandi impenetrabili se tu chiedi a Dio Signore aumenta la mia fede attento anche a questa preghiera perché la fede è appurata viene provata con il fuoco ah Signore aumentami la fede allora stai dicendo Signore dammi una prova perché io posso aumentare la mia fede non sto dicendo con questo che tu non devi chiedere al Signore di aumentare la tua fede ma il Signore fa cose grandi e impenetrabili e io ho sentito una frase molto interessante e effettivamente vera c'è un fratello che è andato dal Signore un grande predicatore apologetta Zacarias che è morto proprio questa settimana e lui dice perché il Signore non risponde sempre alle nostre preghiere come voglio io Dio non risponde sempre alle nostre preghiere come voglio io altrimenti io prendo il posto di Dio Dio non risponde sempre alle nostre preghiere come voglio io perché altrimenti io prendo il posto di Dio Dio risponde come risponde io vado alla parola lui dice che sta per fare cose grandi e impenetrabili che tu non conosci, che tu non capisci che tu non comprendi ma che io sono il Signore e so quello che sto facendo quando io invoco Dio io devo avere piena fiducia che il Signore risponderà e che cosa risponde il Signore? voglio citare brevemente qui alcune possibilità la risposta di Dio può essere specificamente espressa ossia Dio darà a te quello che tu hai chiesto Signore ho bisogno di un lavoro Signore ho bisogno che tu mi aiuti nell'intervento che devo fare e il Signore dice non ti aiuto nell'intervento io ti guarisco adesso e sei guarito il Signore lo può fare, lui è Dio lui va oltre quello che ho chiesto io però risponde esattamente con la sua maestà quello che abbiamo chiesto l'altra possibilità, queste sono alcune possibilità Dio è Dio, non sto io qua a limitare Dio ma per carità però un'altra possibilità è che la risposta di Dio può essere ritardata estrategicamente ossia Dio nella sua strategia ha detto io ti rispondo ma non adesso quando tu vuoi vuoi un esempio? Lazaro quando è morto perché Gesù non è venuto prima a guarire? perché Gesù voleva aspettare che lui fosse morto apposta che fosse morto per manifestare la sua potenza quando Dio dice che risponde alla tua preghiera con cose grandi e impenetrabili se lui non risponde al momento che tu hai chiesto al Signore continua a pregare Dio c'è gente che dice ah Dio non mi ha risposto no tu non hai capito quello che Dio ti ha risposto ma ti ha risposto o Dio ti risponde esattamente quando vuoi o nella sua strategia non ti risponde nel tempo che vuoi te che voglio io ma nel suo tempo lo fa l'altra possibilità è che la risposta di Dio può essere significativamente diversa da quello che ho chiesto a Dio tu hai chiesto una cosa Dio ti fa tutta un'altra cosa Signore ho bisogno di questa cosa che Dio dice io te lo do ma non questo questa cosa e tu in quel momento non capisci dopo capirai ma deve continuare a chiedere nel nome di Gesù deve continuare a confidare nel Signore l'altra possibilità è che la risposta di Dio può essere negata in maniera sovrana Dio dice no Signore no Signore no il Signore ti ha risposto ti ha detto no allora cari è molta fiducia nel Signore un esempio di questo quando Dio dice no Paolo nella sua seconda lettera ai Corintesi nel capitolo 12 lui aveva una spina nella carne non sappiamo probabilmente un problema di salute ed è un messaggio molto forte perché dice che era un messaggero di Satana quindi guarda che anche un brano difficile magari un altro momento noi lo tratteremo questo brano però Paolo dice che per tre volte ha pregato il Signore e il Signore che cosa le ha risposto? la mia grazia ti basta Dio non ti ama ti ama ma ha un proposito più grande e se un domani io sono malato e dico Signore ho predicato la tua parola per tanti anni oggi tu non mi puoi guarire questo era Paolo perché Signore lui che ha predicato che è stato usato come strumento di Dio per la guarigione di altre persone perché Dio stesso non ha guarito lui perché il Signore aveva un proposito nella sua vita che in quel momento lui non comprendeva ma cosa ha fatto? io continuo a invocare il nome di Dio perché so che Dio risponde cose grandi e impenetrabili che il mio cuore non conosce io non so che cose il Signore ha programmato per la mia e per la tua vita ma io so che io devo chiamare il Signore io so che devo invocare il nome di Dio io so che devo confidare nel Signore e so che Dio farà cose grandi che io non posso comprendere la moglie di Billy Graham che anche lei già è con il Signore lei ha detto ringrazio Dio per la preghiera senza risposta se Dio avesse risposto alla mia preghiera ogni volta risposto alla mia preghiera ogni volta che glielo avrei chiesto avrei sposato l'uomo sbagliato cinque volte quindi Dio sa quello che fa nella nostra vita e noi dobbiamo confidare nel suo amore nella sua potenza dal capitolo 33 ma dal versetto 6 guarda quello che Dio comincia a fare a promettere per la vita di Geremia versetto 6 ecco io recherò ad essa medicazione e rimedio ossia la stessa città e popolo che Dio sta portando disciplina dopo lui Dio viene e dà la medicina la guarigione guarirò i suoi abitanti e aprirò loro un tesoro di pace e di verità quindi a volte la risposta che la gente ha bisogno non è la guarigione prima è la disciplina prima il bastone e dopo la carota come si usa a dire in Italia Dio fa anche così perché noi siamo testardi e molte volte non vogliamo ascoltare la voce di Dio farò tornare dalla deportazione Giuda e Israele e ristabilirò come erano prima li purificherò di tutte le iniquità con cui hanno peccato contro di me e guardate qua perdonerò tutte le loro iniquità con cui hanno peccato contro di me e si sono ribellati a me questa città sarà per me un motivo di gioia di lode e di gloria fra tutte le nazioni della terra che udranno tutto il bene che io sto per fare loro e si temeranno e tremeranno a causa di tutto il bene e di tutta la pace che io procurerò a Gerusalemme così parla il Signore io devo invocare non pensare che la nostra vita cristiana è solo in questa sfera io devo invocare il nome di Dio io devo confidare nella sua risposta io devo avere fiducia nel nome del Signore e voglio prima che noi preghiamo al Signore citare un'altra frase di un predicatore Adrian Rogers lui dice così quando parla della preghiera non c'è una preghiera troppo difficile per Dio per rispondere non c'è problema troppo grande per Dio da risolvere non c'è persona troppo persa per essere salvata da Dio non c'è promessa troppo difficile per Dio da mantenere e questa è la promessa del Signore io voglio veramente nell'amore del Signore vorrei che tu potessi uscire da questa sala questa mattina incoraggiato nel nome di Gesù che la parola di Dio è con te che il Signore ci incoraggia in questo mondo ci sono molte battaglie non per la salvezza perché la salvezza la battaglia è stata vinta da Cristo è compiuto ma noi stiamo nella battaglia per la santificazione e una delle chiavi è la preghiera e per questo motivo ti invito domani mattina a pregare al Signore con Alba Nuova se non puoi alle sette puoi pregare in un altro orario ma invoca il nome del Signore perché il Signore farà cose grandi e impenetrabili che tu non conosci nel nome di Gesù vogliamo alzarci in piedi e noi vogliamo concludere con una preghiera così noi registriamo e salutiamo i nostri cari fratelli nell'amore del Signore che ci guardano da casa ma vogliamo pregare che la potenza di Dio sia manifestata nella nostra vita adesso pensa magari a una tua richiesta tu hai sicuramente una o più richieste nella tua vita hai cose che vuoi presentare davanti al Signore pensa a questa tua richiesta che sia la tua famiglia che sia la tua vita spirituale che sia il tuo rapporto con Dio che sia la tua relazione in casa che sia un problema di salute che sia un problema economico che sia il fatto di essere un essere umano sottomesso alla volontà di Dio io non lo so Dio lo sa prega adesso invoca il nome del Signore con me Signore Dio noi ti invochiamo nel nome di Gesù benedice Signore la nostra vita ascolta la nostra preghiera trasforma il nostro cuore fa di noi come dei veri profetti che profetizzano Signore il Vangelo di Cristo alle anime perdute che hanno bisogno di Cristo e che questo messaggio entra nel nostro cuore e trasforma la nostra vita Signore Tu sai che qui ci sono rappresentate tante vite tante famiglie e ognuno Signore ha un sogno ha Signore una sfida ha Signore qualcosa da affrontare e io prego che nel nome di Gesù Cristo la pace del Signore che supera l'intelligenza umana possa custodire i nostri cuori e noi possiamo essere Signore sottomessi alla Tua volontà ma pregando con fede che Tu possa intervenire nel nome di Gesù se c'è peccato Signore che il peccato sia bannito cancellato dalla nostra vita e ogni catena con questo mondo sia spezzata nel nome di Gesù e che lo Spirito Santo riempi il nostro cuore aumentando la nostra fede che possiamo essere perseveranti in questo tempo che possiamo aumentare la nostra relazione con Te e che la Tua gloria sia manifesta nella nostra vita nel nome di Gesù grazie perché Tu non sei un Dio che ci annoi ma Tu fai sempre cose nuove cose grandi e impenetrabili che il nostro cuore non conosce ma noi ci affidiamo a Te ora nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen e il popolo di Dio dice Amen dal lunedì al venerdì alle 7 del mattino Alba Nuova su Facebook e YouTube con Fabiano viene a pregare al Signore martedì alle ore 20 sul Zoom incontro delle donne mercoledì alle ore 20 preghiamo insieme al Signore su YouTube con Fabiano giovedì alle ore 20 e 30 nuovo radio su Zoom preghiamo insieme al Signore sabato alle 15 e 30 incontro di tutti i ragazzi viene a ascoltare la parola del Signore e poi sabato sera sempre sul Zoom incontro giovanile partecipa alle attività della tua Chiesa inoltre noi continueremo i nostri culti presenziali ogni domenica a Cesena e a Rimini alle ore 10 sostieni con amore e generosità l'opera della Chiesa di a ciascuno come ha deliberato in cuor suo non di mala voglia né per forza perché Dio ama un donatore gioioso usa Liban e sostieni la tua Chiesa per la gloria del Signore per l'avanzamento del Regno di Dio ognuno con la generosità che il Signore ha messo nel nostro cuore nel nome di Gesù il Signore Grazie a tutti